Sono rusingato di aver conosciuto un mio fan, Fletcher, e adesso sono fan di Fletcher, quindi siamo fan uno dell'altro. Si è uniti da una grande passione per il naufragio, la tragedia del bounty, naufragio non si può dire, ma l'ammutinamento del bounty. Ognuno è stato studioso per conto suo fino adesso, uniremo le nostre forze per un grande progetto che per scaramanzia, non diremo, ma che state tranquilli, sentirete parlare di noi. In nome della passione per i viaggi, per l'oceano Pacifico e per un mondo perduto che cerchiamo di ravvivare. Quindi sono rusingato di essere il nuovo amico di Fletcher e Fletcher ha un grande posto nel mio cuore, nella mia mente, come grande amico. Grazie Mauretio, gentilissimo. Grazie.